... ... ... ... ... Ci ha sentito uno sparo e la gente da lì ci ha scacciato tutti verso i portici, solo che la gente cadeva per terra quindi ci hanno camminato sovra, sono stato fortunato anche loro. A un certo punto si è creato un vario tra la folla, siamo scappati e dopo siamo arrivati da quella parte qua, abbiamo visto la gente che cadeva dalle transenne però non capivamo cosa era successo al momento. Qualcuno si è perso e cerca i genitori, i reghi qui.